Mi chiamo Sean O'Callaghan, sono il direttore winemaker del tenuto di Carlioni a Radio Inchianti. Le sfide sono ogni anno, cioè specialmente quest'anno con il tempo che sta cambiando, naturalmente abbiamo cambiato un po' tutte le tecniche nelle vigne e nella vinificazione, così le sfide sono belle, però anche duri qualche volta. Io sono un po' un rebel nel mondo di Chianti Classico perché faccio un po' quello che voglio io e per quello sì, sono stato molto ben accolto. Rebello perché faccio solo un Chianti Classico, è il nostro vino base, perché la scelta è quella perché voglio fare un vino personale. La mia più grande soddisfazione è che l'azienda in così poco tempo sta avendo un successo a livello giornalistico, a livello mercato internazionale e sì, non aspettavo questo successo anche sulla bocca di tutti in questo momento. Grazie a tutti.